Cosa sta pensando quel matto di Mr. Market? Salve a tutti, oggi parliamo di questo, un repilogo e un aggiornamento del grafico che vi mostro spesso, che va un po' a tracciare gli scenari economici che sconta il mercato e quindi andiamo su questo punto, visto che siamo a fine novembre, un mese molto particolare, forse uno dei migliori degli ultimi anni, proprio come rimbalzo del mercato azionario. Prima di partire ovviamente per chi è nuovo l'invito è iscriversi con un clic sulla campanellina per avere gli aggiornamenti dei nuovi video e poi mille like a video almeno, mi raccomando, quindi pigiate sul pulsante like perché è un modo per poi crescere tutti insieme. In basso poi trovate tutti i miei contenuti sul Sole24 dove approfondisco questi e tanti altri temi legati all'educazione finanziaria. Partiamo con questo ratio, per chi è nuovo faccio un piccolo repilogo, è la differenza, il rapporto tra i consumi di base, i ETF XLP negli Stati Uniti e i consumi discrezionali, i ETFXLY. Quando questo ratio dove i consumi di base sono al numeratore sale, vuol dire che i consumi di base sovraperformano i consumi discrezionali, vuol dire che i mercati sono un po' preoccupati per lo scenario macroeconomico e quindi comprano più le aziende che vendono dentifrici rispetto alle aziende che vendono consumi discrezionali, appunto, quindi il cellulare dell'ultima moda eccetera perché quando si prospetta un momento di economia in difficoltà è chiaro che la nostra liquidità di consumatori va a privilegiare i consumi di base e si pensa meno quindi al divertimento, all'eccesso, al consumo discrezionale. Questa è la logica di questo ratio e perché può essere utilizzato anche per avere una visione di insieme di quello che sta pensando dello scenario eventualmente che sta andando un po' a scontare Mr. Market nella sua frenetica ricerca probabilistica dei vari scenari e anche nelle sue frenetiche correzioni perché vedete quest'anno il mercato chiaramente ha scontato nel corso del tempo più scenari cambiando anche fisionomia come dimostra la fotografia di questo ratio. A inizio anno, inizio 2023, siamo partiti con un forte soft landing perché i consumi discrezionali hanno sovraperformato alla grande i consumi di base spiazzando tantissimi analisti, tantissimi economisti, la maggior parte che, nero su bianco, sui report, ipotizzavano un 2023 concludere complicato proprio perché era alle porte la recessione più telefonata della storia, quella più annunciata. Poi questa recessione che ci sarebbe inevitabilmente stata non c'è stata in realtà perché gli Stati Uniti hanno fatto un deficit spending dell'8%, una percentuale che si vede soltanto dopo le guerre mondiali. Si è visti in passato nei periodi molto molto più duri dell'economia in cui appunto il fisco, la fiscalità, il tesoro viene incontro. In questo caso c'è stato un deficit spending da dopoguerra in un anno tutto sommato non bellico a parte i brutti, i conflitti localizzati in questo momento tra Russia e Ucraina e poi Israele a massa, ma non possiamo dire fortunatamente che ci sia una guerra mondiale. Ma il deficit degli Stati Uniti ha salvato l'economia però creando poi tensioni sul debito, sui tassi e si è arrivati poi a pagare praticamente il conto di questo deficit che ha portato il mercato a scontare il soft lending, verso la parte finale dell'anno, quella che stiamo vivendo adesso, in uno scenario di higher for longer perché il mercato non si fida del debito pubblico americano ampliato da questo super deficit e quindi comincia a ipotizzare che i tassi possano restare là in alto o comunque non si fida di comprare le durate lunghe visto che proprio c'è un tema anche di deterioramento del debito, apprezzare i rendimenti dei titoli americani, non soltanto il tema delle aspettative di inflazione. Quindi questo è un po' il quadro. Però abbiamo anche visto che nel corso dell'anno quando c'è stata la crisi delle banche regionali diciamo che il mercato ha cominciato a ipotizzare un hard lending, cioè che alla fine si fosse rotto qualcosa, che questi tassi così inalti avessero in effetti rotto a livello sistemico il sistema bancario e quindi i consumi di base sono stati molto più comparati di discrezionali ma poi passato allo spauracchio delle banche che la Fed ha lanciato un programma di sostegno alle banche con cui abbiamo aggiornato la formula della liquidità con cui si misura la liquidità all'ingrosso e che è molto agganciata ai mercati finanziari. Se non avete visto il video in cui aggiorno quella formula dando a disposizione di tutti la possibilità di calcolarla mi raccomando andatelo a vedere perché è un kit, è una formula importante a mio avviso. E siamo tornati quindi nuovamente in soft lending fino a sostanzialmente fine luglio quando poi il mercato ha iniziato a correggere ma la correzione del mercato è stata accompagnata da un andamento laterale di questo ratio sostanzialmente non si è andati nuovamente verso l'alto in modo deciso come un hard lending ma si è andati in laterale perché appunto questo higher for longer adesso non si capisce se porterà a un hard lending quindi effettivamente ha una risalita importante di questo ratio oppure ha un soft lending che come abbiamo visto vede scendere questo ratio quindi questo momento di consolidamento, trading range, campo base chiamiamolo come vogliamo di questo ratio indica incertezza proprio tra i due scenari però se andiamo a guardare dove siamo andati da fine ottobre a qui siamo andati nella parte bassa nella parte bassa di questo ratio e quindi vuol dire che il mercato ha messo un po' più lo zampino in questo mese di novembre sullo soft lending siamo sulla parte bassa di questo ratio vedremo se andremo ancora più giù a quel punto vorrà dire che il mercato starà potenziando attraverso il modo in cui va la scelta degli asset con cui va appunto a far confluire la liquidità potenziando lo scenario di soft lending rispetto all'hard lending però tutto sommato lo scenario in questo momento è più forte rispetto all'hard lending e lo vediamo anche dal fatto che questo ratio sta nuovamente perdendo forza questo è un po' l'aggiornamento che volevo fare riguardando questo ratio perché appunto siamo nella parte bassa a livello di analisi tecnica fantasticando applicando analisi tecnica anche a questo ratio sostanzialmente siamo su un supporto vedremo se continuerà a scendere ma è innegabile che il mercato in questo momento fino a prova contraria è pieno di ottimismo come proprio nella sua natura e si sta posizionando sul soft lending con tutte le contraddizioni che possono esserci però soft lending lo ricordo non vuol dire economia raggiante perché alcuni dicono ma soft lending però ci sono dei dati molto brutti dei dati che comunque indicano un peggioramento delle previsioni di crescita eccetera eccetera ci può stare perché soft lending incorpora in se stesso come definizione come scenario in un rallentamento dell'economia abbiamo visto abbiamo già parlato che gli utili per il quarto trimestre negli stati uniti a fine settembre erano visti in crescita dagli analisti all'8 per cento su base annua e invece nelle aggiornamenti di queste stime degli utili adesso sono poco superiori al 3 per cento quindi sostanzialmente il mercato sta già scontando un rallentamento delle delle della crescita degli utili rispetto a quanto pensava poco fa il punto che in questo momento è comunque tra virgolette contento perché non sta non ci sono segnali forti ancora chi lo sa di un hard lending che sarebbe comunque lo scenario lo scenario peggiore in cui questo ratio tornerebbe tornerebbe rapidamente verso l'alto e quindi fino a prova contraria il mercato è un po in questo momento probabilmente sicuramente in ipercomprato su alcuni su alcuni settori ma attende una prova contraria per per andare a riposizionarsi su un altro scenario in questo momento vuole credere al soft lending e lo scopriamo anche guardando a facendo analisi intermarket cioè andando a vedere come si stanno comportando le altre classi di investimento non soltanto il mercato azionario e guardiamo il dollaro il dollaro in questo momento sta vivendo uno dei peggiori mesi della sua recente recente storia proprio il mese di novembre del 2022 qui siamo su time frame mensile quindi ogni candela è un mese sostanzialmente fu più brutto con una perdita del dollar index del 5 per cento adesso siamo almeno 3 29 per cento e il dollaro un rallentamento del dollaro è piuttosto indispensabile per andare ad accompagnare un mercato più riscone un mercato che si posiziona da uno scenario dai rischi di hard landing a uno scenario migliore del precedente e quindi soft landing perché soft landing non è lo scenario migliore ma è certamente migliore rispetto a un hard landing e se andiamo lontano indietro nel tempo scopriamo che questo livello dei 103,3 che è stato da poco rotto a ribasso dalla dal dollaro ma siamo praticamente lì 103 2 eccetera eccetera è un livello molto importante un livello molto molto significativo nella storia del 99 nel 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 2000 e anche appunto nel 2003 e sostanzialmente siamo dopo averlo perso questo livello a fine 2002 in mercato qua ha vissuto la fase della goldilocks economy la fase di appetito a rischio delle banche centrali che stampavano stampavano soldi e il nazionario che saliva eccetera eccetera lo ha vissuto questo livello questi anni sempre sotto questa questa soia come se fosse una soia che separi il risk off dal risk on siamo stati in ambiente risk off appunto per per diverso tempo poi abbiamo provato quest'anno a perdere questo livello per un po siamo risaliti con la correzione di quest'estate culminata fino ad ottobre e adesso stiamo tornando a testare questa soia appunto spartiacque tra un ambiente risk on e un ambiente risk off quindi anche il dollaro che sta perdendo tanto nell'ultimo mese ma si è posizionato su una soia critica indica che il mercato è propenso a puntare su uno scenario migliore del punto di vista macro ma non ancora del tutto convinto e anche nel resto questo ratio se vogliamo e ci dice la stessa cosa è propenso ad andare ancora più giù ma non è ancora del tutto convinto perché non siamo su non siamo scesi siamo ancora in trading range quindi sostanzialmente il mercato sta vivendo questa indecisione ma diciamo a livello probabilistico fino a prova contare vuole credere in questo momento nella nello scenario soft lane ci sono alcuni dati abbiamo parlato anche del leading indicator index nella variazione a sei mesi che indicano appunto che forse il peggio un bottom dal punto di vista non di quello che accadrà ma di quello che il mercato ha già scontato per i prossimi mesi che accadrà in termini di rallentamento potrebbe essere potrebbe essere arrivato non lo sappiamo perché l'hard lending poi quando arriva non dà grande preavviso quindi siamo pieni di segnali discordanti in questo momento vedevo nei giorni scorsi anche un altro dato abbastanza clamoroso che negli stati uniti i prezzi delle nuove case stanno quasi quasi per diventare più bassi delle delle casse dei prezzi delle case esistenti sembra un paradosso perché chiaramente le case di nuova costruzione essendo nuove dovrebbero costare in partenza di più delle vecchie in media da ristrutturare o comunque si tratta comunque di un confronto tra nuovo usato ebbene l'usato a livello immobiliare negli stati uniti e ha raggiunto lo stesso livello del del nuovo e forse lo supererà ed è accaduto questo sorpasso l'ultima volta nel 2008 sappiamo che il 2008 è un anno un po critico poi per quello che è successo quindi ci sono a volerli guardare tanti dati bruttini che fanno presagire un hard landing ma in questo momento il mercato fino a prova contraria non vuole credere a questo queste ipotesi di hard landing anche perché ci sono altri dati sempre a livello macroeconomico che supportano la tesi che l'economia sia resiliente e stia iniziando a dare segnale di risveglio da questo punto di vista poi chiaramente dipenderà tutto dal percorso di disinflazione che si continuerà ad accompagnare il movimento dei mercati i mercati che dal punto di vista tecnico e vado a chiudere sono comunque un po un po tirati sapete che sono anche un pendolo tra momenti di estrema paura e momenti di estrema evidità da parte degli investitori e questo rende i mercati per quanto dopati per quanto non dopati scusate ma governati dal trading algoritmico da dai robot dal punto di vista degli scambi prevalentemente in realtà sono sempre umani perché si portano sempre in basse alle due emozioni che li guidano paura e avidità siamo adesso nella fase di avidità non ancora estrema avidità ce lo dicono vari vari misuratori e ce lo dice anche per esempio l'indice l'indice schiu l'indice schiu quella linea già bianca che vedete rappresenta un po la volatilità quella indicatore di volatilità al confronto tra tra putte e call out of the money ma senza andare a spiegarlo nel dettaglio altrimenti servirebbe un corso di opzioni probabilmente basti pensare che lo schiu è un po l'indice che da cui ci assicura che misura il livello di protezione che gli investitori prendono al mercato per proteggersi da forti pericoli da cigni neri da cigni grigi quindi quando è molto alto vuol dire che il mercato non si fida delle rialzo e quindi magari accompagna al rialzo della borsa in questo caso le sempre 500 linea arancione andando a comprare le opzioni put molto molto out of the money quindi che non coprono completamente dal sinistro chiamiamola così ma che comunque rappresentano una forma di assicurazione del proprio dal cigno dal cigno grigio barra nero in questo caso abbiamo visto l'ultimo rialzo questo di novembre dell'S&P 500 non accompagnato dall'acquisto di queste putte out of the money appunto non accompagnato da un rialzo dell'indice schiu che a volte accompagna i rialzi proprio per dire ok io sono gestore compro continuo a sbilanciarmi sulle azioni sulle riscon ma allo stesso tempo mi al dubbio mi compro qualche put se poi lo scenario dovesse degenerare qui il rialzo di novembre è stato caratterizzato da un acquisto sul riscon senza diciamo una grande forma di protezione ciò lo dice l'indice schiu questo è un altro dato che ci dice che il mercato forse è un po compiacente un po in avidità e non vuole coprirsi più di tanto un altro dato appunto ottimistico se vogliamo da soft landing ma allo stesso tempo si può vedere anche il bicchiere mezzo pieno potrebbe essere anche un errore diciamo non andare ad assicurarsi anche tra l'altro quando le opzioni put in questo caso costano molto poco appunto come come ci documenta l'altro parametro della volatilità e il vix che invece appunto è a 12 punti molto 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 basso e quindi un altro parametro interessante è la vvix la differenza il ratio tra vvix e vix vvix è un parametro che ci permette di sono sostanzialmente il vix del vix quindi gli operatori che utilizzano il vix per assicurarsi dal mercato e non direttamente le azioni di cui il vix è una una media ma direttamente l'utilizzo del vix per assicurarsi quindi sostanzialmente quando questo ratio va verso l'alto il mercato è abbastanza ottimistico e compiacente eccetera eccetera vedete molti 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 picchi sono andiamo a vedere l'andamento confrontarlo con l'S&P 500 vedete che molti molti rialzi importanti sono stati accompagnati da rialzi di questo di questo ratio e però allo stesso tempo per la logica del main reverting c'è chi dice che a un certo punto questo ratio quando sale fin troppo magari supera una quota 7 quota 8 magari dà un segnale di mercato troppo troppo ipercomprato quindi la sensazione è che stiamo andando verso un forte ipercomprato e ce lo dice anche ce lo dicono anche degli indicatori importanti che osserviamo qui spesso anche insieme andiamo a ecco sono sostanzialmente il numero di aziende quotate nell'S&P 500 che viaggiano sopra la media mobile a 20 giorni quindi qui abbiamo l'86 per cento molto molto tirato la media a 50 giorni il 74 per cento vedete che comunque nei momenti di picco questo ratio supera anche il 90 per cento e sopra la media 200 giorni siamo oltre il 53 per cento se vogliamo questo è l'indicatore meno tirato perché nei periodi di picco va anche al 75 per cento oppure addirittura al nova supera il 90 per cento però vedere superare questo 90 per cento è un po più difficile e quindi vuol dire che questo indice se dovesse arrivare a 70 75 per cento a quel punto probabilmente avremo qui il fair and greedy index in estrema avidità e quel punto la logica del main reverting potrebbe lasciare ipotizzare che nel breve il mercato si spalancherebbe le porte chi lo sa a una a una correzione comunque un momento in cui è molto tirato ovviamente sono ragionamenti tecnici nessun consiglio finanziario ragionamenti proprio per offrirvi degli strumenti per poi analizzare anche per il vostro conto soprattutto per il vostro conto in base alle vostre strategie in base alla vostra curiosità e passione sui mercati gli stessi mercati sono strumenti che vengono utilizzati anche da investitori professionali ed è per questo in questi spunti didattici vado a sostanzialmente condividerli l'ultimo grafico che volevo mostrarvi oggi è quello sempre del dollar index linea arancione ma paragonandolo ai futures sui tassi americani ha in questo caso a fine 2025 vedete che a metà ottobre il mercato scontava tassi della fed al 4 oltre il 4 25 per cento 4 e 35 in questo caso in un mese il mercato ha abbassato le aspettative sui tassi americani da qui a fino 2025 dal 4 e 35 al 3 e 93 quindi sostanzialmente di circa 50 punti base in meno in un mese vuol dire che il mercato sta accelerando nell'ultimo mese l'ipotesi di quanto la fed andrà poi a tagliare i tassi successivamente quindi questo è chiaramente inevitabilmente accompagnato dal dollaro perché il dollaro è collegato ai tassi e quindi se il mercato abbassa le aspettative sui tassi pensa che la fed le comincerà a tagliare magari più velocemente di quanto scontava prima ma non così velocemente come invece accade quando c'è una brutta recessione a quel punto il mercato sconta tagli molto più rapidi e però comunque sconta in questo momento tagli maggiori a quel punto il dollaro si distende e i capitali si sentono più confidenti nell'andare a pescare il riscone magari di alcuni settori del mercato azionario questo è un po il movimento armonico che abbiamo visto ma l'armonia è soltanto relativa al fatto che il mercato si sta sbilanciando magari andando un po in ipercomprato e senza troppa protezione sostanzialmente su uno scenario che non è detto che si verificherà perché come vi ho fatto vedere in apertura del video vado a chiudere il mercato va via via nel corso dello stesso periodo nel corso di un anno a scontare più volte più scenari in questo momento siamo sul soft landing sull'air for longer che può lasciare spazio a un soft landing una convivenza tra air for longer e soft landing e quindi andremo a vedere come si comporterà il mercato nelle prossime settimane tra l'altro ci avviciniamo a fine anno sappiamo la stagionalità sappiamo che c'è la fedda a metà dicembre che potrebbe non essere contenta di questo rialzo perché migliora le condizioni finanziarie e quindi potenzialmente indirettamente inflazionistico come rialzo e quindi vedremo un po quello che andrà fatemi ovviamente sapere anche voi quello che ne pensate di questo mini aggiornamento sui mercati finanziari alla prossima